O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Amen, alleluia, 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 alleluia. Fermiamoci un momento in silenzio e sostiamo per un breve esame di coscienza. Grazie a tutti. 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 Dalla prima lettera ai Tessalonicesi Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo. Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito Dio di verità, Tu mi hai redento Nelle Tue mani affido il mio spirito Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito Nella veglia salvaci, oh Signore Nel sonno non ci abbandonare Il cuore vegli con Cristo E il corpo riposi nella pace Nella veglia salvaci, oh Signore 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 Nella veglia salvaci, oh Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Signore Dio nostro, donnaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno ci dedichiamo colpo e anima al Tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave Maria, grazia plena, dominus secum, benedicta Tui mulierimus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora prognobis peccatoribus, nunc e divino, ora mortis nostre. Amen. Grazie a tutti.